usciti da assisi per la porta nuova sul largo properzio si percorre la via madonna dell'ulivo e si gira a destra fino alla strada che conduce a metri cinquecento di quota ai resti del monastero di sant'angelo in panso oggi incorporato in una casa colonica qui san francesco la notte seguente alla domenica delle palme del 1212 accolse chiara d'assisi fuggita di casa con una parente la rivestì del saio di povertà e qualche tempo dopo acconsentì a che la raggiungesse la sorella minore agnese allora francesco collocò le due sorelle presso il convento di san damiano un luogo per lui dolcissimo poiché vi aveva ricevuto nell'estate del 2205 le parole dettategli dal crocifisso la chiesa che oggi troviamo in questo luogo caro alle memorie francescane non è quella dell'antico monastero ma una ricostruzione del 1604 anche se rifatta con i materiali di ruti di quella antica grazie a tutti